Siamo qui nello stand libri, media e produzioni di Sherwood Festival, ritorniamo anche in diretta su Radio Sherwood. E allora adesso veniamo a parlare un po' dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Allora qui di fianco a me c'è il maestro Jacopo Pesiri che è qui proprio in rappresentanza delle maestranze dello spettacolo Veneto. Allora... Buonasera e grazie dell'invito e grazie a questa rete di festival. Grazie a te di essere qui ovviamente. E allora io beh innanzitutto volevo farti una prima domanda molto molto veloce. Ecco, qual è stato più o meno il percorso politico delle maestranze dello spettacolo nell'ultimo anno e mezzo? Allora il percorso politico che noi abbiamo affrontato è stato un percorso caratterizzato intanto dal vivere alla giornata dall'inizio della pandemia a oggi e che sarà caratterizzato dal vivere alla giornata ancora per molto per molto tempo. Cosa ci è successo? Ci è successo che è scoppiata la pandemia e ci siamo trovati all'improvviso senza senza avere più il nostro lavoro, la nostra rete di di contatti senza avere più una certezza che già prima era molto fragile sugli orizzonti lavorativi che avremmo dovuto affrontare nel prossimo futuro. Allora abbiamo iniziato a sfruttare a nostro vantaggio una serie di caratteristiche del mondo dello spettacolo. Caratteristiche che in questa regione ci hanno consentito un percorso importante, un percorso molto florido. La prima è che tutti si conoscono, che siamo colleghi e colleghi, che condividiamo i palcoscenici e che ci conosciamo, siamo amici. Allora abbiamo pensato, raga ma che cosa dobbiamo fare? Abbiamo tutti annusato la problematica, cioè essendo lavoratrice e lavoratori di un settore all'interno del quale la promiscuità dei corpi è alla base, dal momento in cui stare insieme diventa pericoloso e stare insieme sarà pericoloso, sappiamo che non potremo lavorare. Allora la prima cosa da fare è riuscire a garantire alle colleghe e ai colleghi che gli arrivino dei soldi. Allora ci siamo incontrati, abbiamo deciso di rompere la quarantena l'1 maggio del 2020, ci siamo trovati sotto il teatro Verdi di Padova e abbiamo dato vita un po' a un percorso che non sapevamo dove ci avrebbe portati, che però ci ha portati abbastanza lontano. Abbiamo fatto questa prima iniziativa, poi ci siamo rivolti all'Inps e abbiamo iniziato a raccogliere le nostre colleghe e i nostri colleghi partendo dai bisogni che avevamo, cioè il sostentamento economico, per arrivare anche ai desideri che abbiamo, perché la vita non è soltanto il pane, ma è anche le rose. Allora chiedere pane e sognare delle rose, sognare uno spettacolo migliore, sognare un ambiente lavorativo differente. Non è stato facile, abbiamo dovuto scontrarci con delle problematiche del nostro settore che sono la disgiunzione tra le persone, lavorare l'uno contro l'altro, non essere mai stati abituati a stare insieme e abbiamo iniziato a creare un percorso, ma l'abbiamo creato con i nostri amici, con i nostri colleghi, con le persone con cui viviamo dall'inizio della nostra esperienza lavorativa in regione. Questo percorso ci ha intanto uniti, uniti come professionisti nel bisogno e anche come categorie differenti di professionisti dello spettacolo. Maestranze è uno strano carotaggio dell'ambiente lavorativo nel mondo dello spettacolo, nel senso che abbiamo dalla realtà della cooperativa che con tutte le complessità del mondo delle cooperative comunque condivide il percorso ai tecnici freelance. Abbiamo al nostro interno Sarte di Scena, che è un coordinamento che ha dato una grande caratterizzazione alle lotte di quest'anno. Abbiamo cantanti lirici, non sono l'unico, ma siamo in sette a Padova, insomma, che seguono il percorso. Tantissimi tecnici, Rigger, Facchini, Stage Hands, insomma, siamo un po' tutti, un po' tutto il mondo dello spettacolo che da questa città in questa regione è partito per creare un percorso. E questo percorso ci ha portati a scontrarci con la vita dal punto di vista dei lavoratori che rivendicano qualcosa. Abbiamo fatto nostri gli strumenti del conflitto, abbiamo anche attuato le dinamiche conflittuali importanti, abbiamo stipato di bauli la prefettura di Padova, la prefettura di Vicenza, abbiamo occupato il ponte della libertà bloccandolo con cento bauli, le motrici dei camion e più di mille persone che si sono incontrate lì perché chiedevano un mondo del lavoro differente e siamo in qualche maniera, navigando, come ho detto, giorno per giorno, navigando a vista, siamo riusciti a creare le maestranze che comunque sono un coordinamento di lavoratrici e lavoratori che in questa lotta che ha coinvolto tantissimi territori in tutta Italia sono riusciti a conquistare dei piccoli traguardi. In regione abbiamo ottenuto il riconoscimento di un bonus, una tantum ai lavoratori, non è stato capillare, non è arrivato a tutti, però è stato fatto. Dunque abbiamo imparato che anche se siamo dei lavoratori di un settore in cui la distanza tra i lavoratori crea il profitto, quando si sta insieme si può arrivare a qualcosa e in particolare a Padova siamo riusciti, grazie alla manovra tenaglia un po' conflittuale, un po' istituzionale, a creare quello che è un po' il germoglio di uno spettacolo che noi sogniamo, uno spettacolo in cui lo Stato attraverso le istituzioni partecipa alla creazione degli eventi sostenendo la rendicontazione, quindi sostenendo chi paga in bianco i lavoratori e le lavoratrici. Perché paga in bianco? Perché abbiamo fatto un grande ragionamento sul territorio, sulle forme che il pagamento ha nel nostro lavoro, rifiutando il rimborso spesa, insomma abbiamo capito tantissimo di noi e quello che abbiamo capito l'abbiamo messo a disposizione delle istituzioni per dire loro, raga, allora servono soldi e serve che vadano investiti in un certo modo, per tutelare il professionismo, per tutelare le persone che sullo spettacolo costruiscono le loro relazioni amicali, sentimentali, i loro progetti futuri e dunque lo Stato deve intervenire garantendo a chi fa lavorare della gente, quindi garantisce le giornate contributive, l'assicurazione, la sicurezza, va riconosciuto qualcosa. Noi crediamo che l'importante nella vita in generale, ma poi anche come lavoratore, sia di offrire una alternativa. Sharewood è la migliore alternativa, allora di alternativa ne sappiamo qualcosa. Non serve limitarsi a denunciare il problema, bisogna anche essere parte attiva della creazione della soluzione. In qualche modo quello che è successo a Padova è una piccola soluzione, che ripete in un ecosistema molto limitato quello che è in grande per esempio il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, cioè una enorme movimentazione di capitali economici per sostenere lo spettacolo. Non è giusto che soltanto alcuni ricevano denaro pubblico per fare spettacolo ed è necessario che i soldi pubblici vengano ridistribuiti anche dal basso. Dunque sostenere lo spettacolo dal vivo in piccoli eventi capillari che parlano di cultura di prossimità, all'interno dei quali si deve avere cura, ed è un'altra parola che torna delle persone che di quel lavoro vivono. Noi siamo molto felici di quello che abbiamo fatto perché intanto abbiamo, passatemi il termine, sindacalizzato delle lavoratrici e dei lavoratori che fino allo scorso anno non si percepivano come professionisti in una maniera così profonda come oggi, cioè parlando dei propri diritti, dei propri doveri, dei propri desideri, delle proprie possibilità. Abbiamo anche avvicinato dei lavoratori e delle lavoratrici che non si sarebbero forse mai conosciuti perché fonici, cantanti, sarte, facchini, rigger, stage hands vivono in momenti diversi della giornata dello spettacolo e nel nostro coordinamento invece si incontrano. È come essere a sera attorno al fuoco, mi piace usare questa immagine e raccontarsi chi siamo e questo è un traguardo importante. Quindi ci siamo riconosciuti, anzi ci siamo cercati, ci siamo riconosciuti, ci siamo conosciuti, abbiamo collettivizzato i nostri problemi, abbiamo creato l'alternativa e mediante l'utilizzo sapiente io credo del conflitto sociale mostrando che senza nulla da perdere non c'è nessuna paura abbiamo creato con le nostre mani una piccola alternativa possibile per uno spettacolo migliore che parte dai territori per valorizzare i territori e valorizzare le persone che nei territori, nella musica, nello spettacolo lavorano e creano la loro vita. Questo siamo noi. Allora grazie mille Jacopo, intanto si è creato una piccola folla che sta ascoltando questo dibattito. Allora guarda proprio, visto che i tempi sono cortissimi proprio e devo proprio chiederti una battuta velocissima, il futuro di queste lotte quale sarà? Il futuro di queste lotte è continuare a coinvolgere i nostri colleghi nella decostruzione di un mondo del lavoro che è sbagliato. È sbagliato perché è pieno di tossicità da ogni punto di vista, tossicità e discriminazioni di genere, tossicità legate al mondo delle agenzie che avete giustamente citato e che inquina un po' tutto l'ambito dello spettacolo. Il futuro di queste lotte è nella creazione di incontro e di rete e di conoscenza reciproca, nella rivendicazione di diritti, ma soprattutto nel far capire alle nostre colleghe e ai nostri colleghi che lo spettacolo non è una montagna da scalare a tutti i costi, che arrivare in cima non significa essere meglio di chi in cima non ci arriva o non ci vuole arrivare. È tutto un grande mondo che vive della punta dell'iceberg ma che vive anche della parte sommersa dell'iceberg. Allora forse lo scopo ultimo di tutto questo è far uscire quella parte sommersa conferendole una dignità, una legittimità. Perché dove c'è diritto per i lavoratori anche in basso si può essere un po' più tranquilli che pure in alto ci sarà una qualche forma di giustizia. Dunque partendo dalla sagra della ciliegia garantire a chi lavora lo stesso sistema di welfare che ha chi poi lavora in ambienti più grandi. Questo penso sia un po' il nostro gol. Perfetto, grazie mille Jacopo per il prezioso contributo. Grazie a voi e ringrazio, io ringrazio davvero questa rete di festival. È vero, incontrandoci insieme creiamo una rete e quindi un sistema che prima non c'era e in questo sistema noi siamo liberi. E allora se noi lo fortifichiamo e invece che un piccolo feudo creiamo un grande gruppo, almeno in questo grande gruppo che noi andiamo a creare saremo qualcuno, saremo persone, saremo lavoratrici e lavoratori, professionisti, artisti e avremo quello che meritiamo. E partiamo da noi per prendere tutto. Allora io con questo augurio qui passo direttamente perché purtroppo dobbiamo un attimo correre adesso per questo finale, siamo arrivati quasi nel finale. Dovevamo avere un ospite che purtroppo era Luca Persico Zulu dei 99 posti che purtroppo non è riuscito a connettersi oggi, gli mandiamo un saluto che ci sta ascoltando da casa e io lascio la parola a Francesca di nuovo perché adesso abbiamo in collegamento da Livorno Toto Barbato del Decayge, uno degli organizzatori dell'iniziativa ultimo concerto. Allora lascio la parola a Francesca con Toto. Grazie mille Pino, spero peraltro che mi si senta e che mi si veda perché prima c'erano problemi tecnici, dopo quest'ultimo intervento sarei quasi per abbandonare la colla e andare a saltare in qualche cosa. Sicuramente entusiasmante ripercorrere le lotte che si sono date in quest'ultimo periodo perché una delle frasi che maggiormente mi ha colpito appunto è stato il passaggio sulla visibilizzazione e sulle relazioni che sono tornate o che si sono create per la prima volta tra colleghe e tra colleghi perché appunto tante volte siamo in mansioni iperparcellizzate e ci rendiamo poco conto della noi stessi, dell'intelaiatura generale, figuriamoci chi esternamente appunto il pubblico che attraverso i nostri spazi, i nostri eventi quanto poco possa avere contezza, toccare con mano e queste iniziative è bene che si dispondano e si propaghino sempre di più. Con Toto che saluto e che ringrazio per essere qui ci piaceva riprendere appunto il discorso iniziato con la visibilità che abbiamo deciso di dare all'iniziativa di ultimo concerto perché se oggi il focus appunto di oggi è sui festival, sui festival indipendenti e tutto ciò, tutto l'indotto, tutto ciò che ci sta attorno appunto non abbiamo mancato di voler dare visibilità, sostegno e attenzione anche tutto al lato club perché adesso c'è l'estate e ogni club ha trovato le sue soluzioni, ponte verso un autunno che è comunque punteggiato di molti interrogativi sulla fattibilità, sulle riaperture, sulla sicurezza appunto di una ripartenza che in un'altra stagione speriamo, come dire, possa essere più liscia ma ecco ci fa comunque interrogare sulle possibilità. Volevo chiedere a Toto appunto una battuta sul futuro e anche magari sul futuro di iniziative simili a quella di ultimo concerto che dopo un dibattito molto lungo, una chiacchierata quasi di tre ore abbiamo convenuto, abbia davvero dato lo schiaffo che serviva a livello di visibilità e rispetto a ciò che i live club tutti stavano vivendo lungo tutto quest'anno e mezzo. Ciao a tutti, vi sto seguendo da un'ora, molto interessante tutto quello che avete detto, ciò che hanno detto i miei colleghi prima di me, saluto il Cegna che ormai ci conosciamo da troppi anni. Senti, niente, sui club che dire, siamo silenti da oltre un anno, da un anno e mezzo, oramai, a me mi fa un po' tristezza ogni tanto. In questi giorni Alcage stanno facendo le prove per il tour estivo Yizeb, almeno c'è un po' di musica lì dentro, è triste vederlo chiuso oramai da un anno e mezzo. Quando riapriremo penso che ci siamo bruciati una generazione, cioè un paio di annate di ragazzi, quindi ci saranno centinaia e migliaia di ragazzi diventati uomini e donne che non vedremo più, ma anche per una questione di età, magari vedranno ogni tanto i concerti quelli di musica un po' più anzianotta e ci sarà una miriade di ragazzini che appunto prima della pandemia erano ragazzini e ora invece si sono cresciuti e chissà cosa ritroveremo, anche noi siamo nel... cosa succederà quando finirà questa storia? Non lo può sapere nessuno. In questo momento vedo che c'è un gran casino la notte in tutte le città italiane. Ovviamente manca tutto quel salvagente sociale, anche cioè, virtualmente se viviamo a qualcosa se ne stanno accorgendo anche tutti i nostri, tra virgolette, amici, questori e prefetti perché, non lo so, a Livorno la notte succederà qualunque, ma vedo che nelle chat di tutti noi colleghi insomma c'è un problema molto importante. Detto questo, ma sai cos'è rimasto di ultimo concetto? È stata un'iniziativa bellissima che si è chiusa con... era un punto... era ultimo concetto e il logo era un punto di domanda. Il punto di domanda è rimasto che sarebbe il prossimo concetto. Quale sarà il prossimo concetto? Siamo ancora tutti qui a chiedercelo. Ci sono stati degli eroi, colleghi miei eroi, che hanno provato anche a riaprire con le limitazioni. Noi a Livorno abbiamo fatto una scelta molto più radicale. Noi fino a che la parola pandemia, cioè fino a che non uscirà finalmente i titoloni sui giornali, la pandemia è finita, no? È nata la Repubblica. Io voglio la foto di una bellissima donna col giornale che ho scritto la pandemia è finita, allora lì noi riapriremo, perché prima è un... noi non ci proveremo nemmeno, perché in verità poi negli spazi chiusi già, diciamoci, sarà impossibile gestire gli assemblamenti negli spazi aperti. Figuriamoci negli spazi chiusi e noi non ci proveremo nemmeno, anche perché appunto noi come live club stiamo sempre, essendo anche un po' a Livorno, una città molto molto calda e se ci piace assembrarci, diciamo se ci piace assembrarci, quindi sappiamo che è impossibile riaprire e gestire gli assemblamenti, quindi noi riapriremo quando tutto questo sarà finito. Quando sarà finito non si sa, secondo me ci sarà un periodo di interregno settembre-ottobre dove tutti saranno a guardare se finalmente i vaccini faranno quello che tutti noi speriamo insomma, non hanno i risultati promessi e io spero insomma che tutti noi riapriremo verso dicembre-gellaio. Stiamo a vedere, questa è... e niente... così. Allora, io ringrazio ancora Toto Barbato e Francesca Gabriellini che sono in collegamento. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi saluto perché ormai ci stiamo avviando... ecco l'applauso... vi saluto perché ormai ci stiamo avviando verso la chiusura di questo incontro che stiamo anche un pochettino sforando nonostante ci sia stato un ospite in meno rispetto a quello che avevamo previsto. Grazie. Grazie a tutti.